cari ragazzi sono in Ucraina in prossimità di Kiev ho ritirato la macchina e sto per andare a fare il lavoro che mi è stato richiesto allora sono atterrato stamattina presto ma sono un'ora più avanti il mio orologio segna le 8 in realtà sono le 9 sono in autostrada in divisione di Kharkiv sarà un lungo viaggio in macchina fa freddo fa molto freddo e qua i cartelli non sono di facile comprensione adesso non sono scritti cirilli la lingua che purtroppo non mastico ancora bene a parte quello il paesaggio è molto suggestivo ci sono in giro un sacco di macchine recenti e niente con questo video voglio documentare proprio quello che andrò a fare adesso mio dio dove cacchio devo girare dai penso che mi affiderò se va bene nelle mani del mio navigatore ma già non avevo previsto ho già incontrato la polizia molto simpatica e sta cazzo di macchinette con cambio automatico fa veramente cagare a quanto pare queste sono delle case o appartamenti o uffici o un po' strane molto strane ebbene sto entrando in città e il traffico è iniziato spero di non incontrare altri che ci sono